La data dell'11 luglio con l'avvio di quattro ruote annunciate da Volotea con destinazione Verona, Cagliari, Catania e Nantes in Francia rappresenta una data importante per l'aeroporto Costa d'Amalfi di Ponte Cagnano, una data di spartiacque tra la vecchia gestione del consorzio alla GESAC che amplia le opportunità per lo scalo salernitano. A dirlo il responsabile incoming IDFedder Turismo Confindustria Giancarlo Vitolo che parla di prossimi voli anche da parte di EasyJet che incrementerà i voli contribuendo a rappresentare uno straordinario volano per lo sviluppo turistico della regione sia per i flussi turistici in ingresso che in uscita. La conferma potrebbe arrivare a breve, non si esclude che anche Ryanair che insieme a EasyJet rappresentano le prime due compagnie low cost più grandi d'Europa non possa scegliere per il 2025 di volare dall'aeroporto di Salerno. Al momento le certezze date dalla compagnia aerea spagnola Volotea con l'attivazione delle quattro rotte dall'aeroporto di Ponte Cagnano sia in Italia che all'estero che dall'11 luglio consentirà di raggiungere Verona, Cagliari, Catania e Nant sono un'ottima occasione sia per i turisti in entrata che in uscita. Questa data dell'11 luglio sarà lo spartiacque tra la vecchia gestione dell'aeroporto che era fatta dal consorzio della società aeroporto S.P.A. con il passaggio alla gestione GESAC chiaramente si amplia le opportunità per la destinazione e per l'aeroporto di Salerno. Quindi Volotea pochi giorni fa ha comunicato ufficialmente come ormai sappiamo tutti quanti e ha messo in vendita questi quattro voli. Rumors ci parlano che da qui a luglio ma penso da qui a pochissime settimane avremo qualche altra compagnia che metterà degli altri voli. Quindi Salerno sicuramente è sulla cresta dell'onda nel senso sia per il discorso outgoing ma anche per l'incoming perché attenzione molti chiaramente l'utente finale guarda soltanto i voli in uscita. Noi operatori turistici guardiamo anche quelli in entrata per esempio Nantes sicuramente che serve la Britannia e la Normandia potrebbe essere un'ottima occasione per portare qui i turisti francesi sul territorio. Bene Volotea dunque potrebbe fare da pripista per altri voli e quindi rendere più operativo l'aeroporto di Ponte Cagnano ormai atteso da anni che rappresenterebbe sicuramente un grande volano per lo sviluppo nella città di Salerno per il turismo per gli arrivi ma proprio come lei diceva un'opportunità proprio per gli stessi salernitani a partire dalla provincia di Salerno. Sicuramente è un volano perché diciamo i rumors non abbiamo ancora l'ufficialità ma ci parlano di prossimi voli da parte di EasyJet che sicuramente insieme a Ryanair rappresentano le prime due compagnie low cost più grosse d'Europa. Per il 2025 abbiamo la certezza che EasyJet voli da e per Salerno speriamo che diciamo tra qualche settimana possa inserire delle tratte molto interessanti appunto sia per l'incoming che per l'outgoing perché appunto noi operatori guardiamo sempre al discorso bilaterale sia in entrata che in uscita. Ovviamente questo dà un'accelerata anche alle infrastrutture per collegare meglio l'aeroporto di Ponte Cagnano non ultima anche la metropolitana. Sono partiti i lavori ho visto pochi giorni fa delle foto da parte diciamo vostra di giornalisti quindi per la metropolitana sicuramente sì sarà anche diciamo possibile al momento credo che possano arriveranno sicuramente dei treni regionali in stazione la nuova stazione che sorgerà. Si spera di poter far fermare anche l'alta velocità chiaramente poi dopo si aspetta anche il trasporto su gomma quindi un po' tutto un volano che possa portare persone in maniera molto semplice all'aeroporto di Salerno. Un'occasione anche per spostare un po' di utenza da Capodichino a Salerno. Quello sicuramente dalle ultime riunioni che abbiamo fatto il mese scorso possiamo dirvi che Capodichino ha chiuso il 2023 con circa 12 milioni di passeggeri quindi si è già in overbooking per così dire nel senso che era stimato su una capacità di 10 milioni. Ha sforato prendendo anche delle nuove piazzole quindi veramente l'aeroporto di Salerno potrà dare una grossa mano non a caso appunto la gestione GESAC farà sì che i voli saranno diciamo compensati tra Salerno e Napoli in modo da avere sempre più persone sul territorio campano.